Alcuni senatori, tra cui anche senatori di maggioranza, hanno chiesto che il Senato sia elettivo. Cerchiamo di capirci. Il Senato, come le province, sono previsti dalla Costituzione. Si possono abolire soltanto con una legge costituzionale. Questo governo vuole abolire le province e il Senato, semplicemente depotenziandoli. Cioè rimarranno. Le province saranno un organo non più elettivo e vorrebbe fare la stessa cosa del Senato. A me, francamente, invece, se un organo c'è, mi piace eleggerlo. Poi, siano le preferenze, siano i collegi, i sistemi possono essere tanti. Ho ascoltato lo streaming tra Renzi e i Cinque Stelle, tra quello che è il cosiddetto pacchetto dell'Italicum e quello che è invece la proposta dei Cinque Stelle. Ci ho capito poco. Io vorrei tanto, non so se voi siete d'accordo, che questi politici ci proponessero soprattutto qualcosa di semplice. E di semplice, mi sembra invece, che non abbiano assolutamente intenzione, in materia elettorale, di fare qualcosa.